La sicurezza al volante nel mondo delle competizioni inizia dal giusto abbigliamento. Approfondiamo l'argomento con i più autorevoli esperti del settore. Buonasera cari telespettatori, questa sera a Safe Drive parliamo di un'azienda italiana impegnata nel motosport ma non solo, un nome di riferimento, Sparco e abbiamo piacere di avere graditi ospiti il presidente dell'azienda Aldino Bellazzini e l'amministratore delegato Claudio Pastoris ai quali porgo i miei saluti. Buonasera grazie. E chiediamo subito di fare una piccola cronistoria dell'azienda Sparco, 37 anni, dicevo una azienda importantissima a livello internazionale, raccontiamo qualcosa. Sì, Sparco nasce nel 1977 nella periferia di Torino ad opera di due appassionati piloti dilettanti che colgono la necessità che il mondo dell'automobilistico in quegli anni abbastanza funestati da gravissimi incidenti rendessero necessario fare qualcosa per aumentare la sicurezza dei piloti nelle corse. Quest'azienda si sviluppa molto, diventa leader mondiale, ancora oggi siamo l'azienda leader mondiale, abbiamo più del 35% di quota di mercato del mondo, copriamo tutte le necessità di sicurezza che sono necessarie su una macchina da corsa, sia essa Formula 1, rally o qualsiasi altro tipo di attività armonistica. La Formula 1 è la principale vetrina, non solo televisiva, è il punto più alto della tecnologia, però siete presenti a 360 gradi, magari elenchiamo giusto i principali campionati dove dettate legge. Sì, Sparco è presente in quasi tutti i campionati motoristici, fornisce nel mondo oltre 250 team che partecipano a campionati di primaria importanza, sia a livello nazionale che internazionale, oltre alla Formula 1 che abbiamo citato con McLaren, forniamo altri due team, siamo presenti nel campionato rally sia nel mondiale che nell'RC che nel campionato italiano, forniamo tutti i piloti che partecipano ai campionati ruote coperte e scoperte dal VTCC, DTM, FIAGT. Siamo presenti in modo consistente in tutti i campionati americani, statunitensi, del NASCAR soprattutto, e siamo presenti in modo significativo anche nella Dakar, che è la gara che inizia sostanzialmente la stagione motoristica. Possiamo dire con orgoglio che in qualsiasi manifestazione racing e motorsport, Sparco è presente con i suoi prodotti. Ed è ghiacciandomi la Formula 1, ci avete portato in studio qui alle mie spalle una tuta importante, una tuta McLaren, voi avete una partnership dal lontano 1996 e questa è l'eccellenza, qui si evince tutta la vostra capacità tecnologica e produttiva. Sì, Sparco è in Formula 1 dalla fine degli anni 70, avendo fornito prodotti ignifugi a campioni che hanno rappresentato la storia della Formula 1. Con McLaren, la collaborazione che possiamo chiamarla partnership, è ininterrotta dal 96 e quest'anno abbiamo rinnovato per altri tre anni. Da questa collaborazione, grazie a tecnologie d'avanguardia sui materiali e sulle lavorazioni, sono state realizzate per McLaren e poi trasmesse a tutta la Formula 1 e alla produzione di serie prodotti innovativi, confortevoli, mantenendo standard di sicurezza molto alti. questa tuta che vedete, che è la tuta superleggera, ad oggi in termini di peso è rimasta ineguagliata. In un momento difficile, noi non vorremmo sottolinearlo, ma è giusto dirlo, un'azienda che lavora nell'automotive ha creduto in questo ambiente, ha fatto dei grossi investimenti, tre siti produttivi e il presente, ma anche un po' il futuro è il carbonio, il carbonio che ormai avete come aziende con le quali collaborate, il gota delle supercar. Noi abbiamo allargato il nostro perimetro di business a segmenti che sono limitrofi, abbiamo la tecnologia del carbonio che abbiamo da molto tempo, abbiamo pensato che potremmo sfruttare questa tecnologia per servire clienti importanti per quelli che noi chiamiamo supercar, che sono l'evoluzione su strada delle macchine da corsa. Io ho dato un'occhiata prima di incontrarvi al vostro sito, al vostro catalogo, che ormai è una sorta di bibbia, tante tante pagine, però ho trovato che ci sono ancora dei prodotti altamente tecnologici a dei costi di accesso corretti, posizionati, entry level, definiamoli così, per gli appassionati da domenica. Siete sempre molto attenti anche a questo mercato? Beh, è chiaro che l'eccellenza si fa con la Formula 1, ma i team di Formula 1 sono pochi, poi ci sono i rally, poi c'è tutto il business degli amatori che sono i nostri principali clienti, quindi la nostra attenzione è fondamentalmente centrata sul business amatoriale, portando a usufruire a questi amatori della tecnologia che noi sviluppiamo con i grandi team. Io volevo ringraziare i nostri ospiti, avete capito che la Spark è un'azienda che crede in questo mercato, in espansione, un marchio che è forse più conosciuto all'estero, vedi i paesi dell'estero, ma anche il Giappone, l'Oriente, l'America, dunque complimenti a voi e siamo ancora a inizio stagione delle competizioni, un in bocca al lupo e vi auguro tanti successi commerciali e sportivi. Grazie mille e grazie a voi. Grazie a tutti voi.